Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance, una scuola di Ravenna, bali caribici e non solo. Proseguiamo lo studio della salsa portoricana presentandovi una piccola serie di passitos. Passo la parola alla maestra Loretta. Ciao a tutti, piccola combinazione di passitos, quindi velocemente andiamo a spiegare. In questo caso anche noi donne partiremo col piede sinistro, quindi non più col destro, sinistro come l'uomo. Andremo a eseguire tipo una mezza base, quindi 1, 2, però al 3 mi apro, 5, 6, 7 farò, per quello che riguarda la donna, un piccolo twist, 5, 6, 7 andrò a caricare il peso, quindi col mio piede destro farò 5, 6 e al 7 carico il peso. L'uomo, piccole step al pavimento, 5, 6 e 7 carica. Quindi ricominciamo da capo, faremo 1, 2, 3, 5, 6 appoggio. Adesso non faremo altro che fare una camminata avanti, indietro, avanti, indietro sui tempi forti, per cui avanti 1, mi giro 3, avanti 5, mi giro 7, base alternata 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Adesso ve lo eseguiremo tutta quanta senza fermarci nella spiegazione, quindi insieme, 5, 6, 7 andiamo, 1, 2, 3 e 5, 6 appoggio, 1, 3, 5, 7 base, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vi ripetiamo l'esecuzione dandovi, ahimè, la schiena. 5, 6 e 7 andiamo, 1, 2, 3, 5, 6 appoggio, 1, 3, 5, 7 base, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok grandi amici, speriamo che vi sia piaciuta la cosa, ciao a tutti, arrivederci, ciao ciao! Grazie a tutti!